Vita Leinen, ancora una vittoria, questa Perugia non si ferma, è ancora la quattordicesima vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. In Italia si dice quando una squadra va veloce, che va a tutta birra, tu sei belga, di birra ti ne intendi, e quindi che birra è questa Perugia? Doppio malto? Io dico sempre lo stesso, non male, non male, abbiamo fatto 14 vittorie a consecutivo, la stagione non è cominciata facile, ma oggi è meglio, meglio, oggi abbiamo giocato 2007, eccellente, il terzo ha fatto troppo di errori, ma vincere 13 ore contro Monza, squadra con i giocatori, è interessante, allora la preparazione per la quarta di finale, la partita più importante della prossima settimana è mercoledì. Giocare contro Pada per andare fino al 4, fino al 4 della Coppa è il più importante, allora secondo me la squadra è pronta per giocare mercoledì. Oggi Monza aveva un giocatore che conosci bene, Bartos Gurek, contro di te, contro la tua squadra ci teneva a fare bene, ma tu lo conosci anche altrettanto bene, avevate preparato la partita particolarmente su di lui? No, no, ma una cosa è, Bartos Gurek e io insieme con la squadra nazionale polacca abbiamo vinto la Coppa del Mondo, è qualcosa che sta sempre, è un sentimento incredibile quando io vedo Bartos Gurek, quando io parlo con lui, lui è una persona incredibile per lavorare, oggi abbiamo giocato il nostro, come sempre il nostro gioco, il nostro gioco è muro di difesa, oggi ho due set muro di difesa, era eccellente, per me è più importante.